Rossellina, avrei un attimo bisogno della 13 a 9. Che succede, Guido? Ti senti poco bene? Ti devi straiare? No, ci metto pochissimo. Andate a quest'ora. Ok, Antonio, dovremmo fare il PCT. Il che? È una cosa medica e scientifica. Sì, ma non è pericoloso, no? Guido, non mi mettere nei casini. No, l'importante è che poi mi mandi Olga a rifare la stanza. Olga. Grazie, Rossellina. Prego. 170. Yeah, sure. Thank you. You're welcome. PCT. PCT. No, ma che stanno a fare? Quella non ha rimorchiato, non ce lo posso credere. No, è la donna sua. Devono fare il PCT. Perché? Una cosa comunista, dei sindacati, mi sa, no? No, è esame dell'interazione tra sperma e muco della cervice. Ma sa che devono scopare. E io e te niente, eh? Va a lavorare, imbecile. Ma poi se ti piace. Good morning. Dai, guardate, dottorci. È troppo figo qua. No, c'è Sky. Il porno ci sono? Ci vediamo il porno. Sì, i porno, però si pagano. Sporca a nulla, non lo tocca a questo. Dai, il frigo bar. No, il frigo bar, no. Dai, che bagno, almeno le patatine. Oh, che modi. Vai, ciò. Ma c'è, senza offrire niente, che le sue rumme e coca. Una coppa di moestrandone. Una coppa di moestrandone. Dai, ci abbiamo poco tempo. Veloci, vai. Non ci trovi più. Andiamoci, vai. Ciao, ciao. Buon bacio dai.